Le giro subito le domande dei nostri colleghi giornalisti, cominciando da Francesco Liverio. Prime tre gare, scrive Francesco Liverio, e prestazioni sempre in miglioramento, ora arriva il derby con la Regina, che gara sarà? Sicuramente sarà una gara dove si affrontano due squadre che hanno un credo tattico molto simile. Quindi vedremo una gara con molti duelli, soprattutto è preparata a livello mentale, soprattutto dando certezza su ciò che siamo e lavorando su molte situazioni che dobbiamo migliorare e dobbiamo affrettare in questo. Quindi le gare a noi ci danno anche questo input di valutarle, le gare precedenti, per migliorare in fretta, soprattutto quando trovi una gara ravvicinata come questa, devi subito far tesoro di ciò che non è andato nella gara precedente e migliorarla in quella successiva. Alfredo Nardi, da una parte Toscano e Napoli, dall'altra Occhiuzzi e Moschella, un bel tuffo al cuore per tutti. Sì, sicuramente, abbiamo condiviso anni fantastici insieme, è rimasta amicizia tra di noi, tanta amicizia, tanta stima, quindi è bello rincontrarsi. È normale che domani sarà poi in campo, saremo avversari con il coltello tra i denti. Antonio Clausi, Regina e Cosenza sono due squadre della carta identità differente, figli dei rispettivi modi di operare del club. Esperienza contro freschezza e anche il riassunto del confronto tra amici, Toscano contro Chiuzzi? No, noi, ripeto, come a livello lavorativo, umano, io conosco il mister Mimmo, lui conosce me, ci conosciamo, ma so sicuramente da parte sua c'è tanta esperienza, è un alleatore che stimo tantissimo, quindi mi sono spesso confrontato con lui in passato, però da parte mia c'è la voglia di migliorarmi, di crescere, di dare sempre più certezze alla squadra, quindi voglio farlo in fretta e devo farlo in fretta per il nostro Cosenza. Franco Segreto, conoscendo bene Toscano, può dirci il mister le caratteristiche e i punti deboli e forti delle sue squadre? Il mister è un martello, quindi lui è uno che ha il focus del risultato in testa, quindi lui è tutta una forza, quindi per me lui ha tanti pregi, ha più pregi che difetti, insomma. Roberto Barbarossa, buongiorno mister, domani sera inevitabile qualche novità nell'undici iniziale, visti gli impegni ravvicinati, se sì, in che settore pensa di intervenire? Allora, oggi nella rifinitura avremo il quadro della situazione, a me non si tratta mai di turnover, nient'altro, io ho 25 titolari, li alleno tutti allo stesso modo, li alleno per metterli nelle condizioni che chiunque scende in campo sa ciò che deve fare perché voglio una squadra che parla un'unica lingua e quindi la rifinitura, soprattutto in queste gare ravvicinate, è fondamentale per sciogliere molti dubbi. Ha già risposto anche a Pia Giorgio Giorno che diceva che tra i partiti in sette giorni la formazione che vedremo domani sera al campo sarà condizionata da questi incontri ravvicinati, mi sembra che sia esauriente la risposta che ha appena dato. Andiamo con Osvaldo Morisco, bentornato mister, cosa teme di più degli avversari? Rispetto per gli avversari, perché gli avversari si rispettano, si devono conoscere, però per me il temere non esiste perché dovevo pensare a fare sempre noi la gara in fase di possesso e in fase di non possesso, valutando tutte le fasi di gioco e quindi assolutamente rispetto per tutti gli avversari e basta insomma. Storino, sul portiere la gerarchia è quella di Falcone titolare o come la prima giornata potremmo anche rivedere Saracco titolare questa volta? Come ho già detto in passato per me sono due titolari, è normale che il portiere poi quando acquisisce continuità gliela devi dare arriverà il momento che acquisirà anche questo Umberto come ha fatto in passato, quindi arriverà il suo momento quindi sono due titolari, loro lo sanno per me e quindi il discorso è questo. Francesco De Filippo chiede una sua prima impressione sui nuovi attaccanti e se a suo giudizio non faranno rimpiangere Riviere Asensio? Ma lo scorso anno è capitata questa cosa all'inizio con gli attaccanti, gli attaccanti soprattutto quando entrano in una squadra nuova per loro entrare in alcuni meccanismi non è facile perché devono mettere a disposizione le proprie caratteristiche in funzione di un credo tattico e quindi soprattutto noi giochiamo con tre attaccanti molto flessibili nei ruoli e quindi devono capire queste nostre situazioni, quando entrano in questi meccanismi usciranno fuori le loro caratteristiche e ci faranno divertire. Antonio Lopez, quanto inciderà se inciderà il risultato del derby sui giudizi e le prospettive delle due squadre? Tenendo presente che siamo soltanto all'inizio e nel pieno di un'incertezza che sta condizionando la vita di tutti. Sicuramente siamo agli inizi ma con la voglia di crescere, di far crescere la prestazione, la prestazione deve portare risultati quindi l'obiettivo è sempre il risultato e quindi è normale che si vuole sempre vincere. Noi dobbiamo avere la testa con un solo obiettivo, la vittoria in ogni gara, va cercata però con le prestazioni, va analizzata durante la settimana e va lavorata perché una prestazione non è figlia del caso, è figlia di un lavoro, di idee chiare e soprattutto devo mettere nelle migliori condizioni i ragazzi per fare la prestazione. Quando i ragazzi fanno la prestazione come la stanno facendo, poi devo essere bravo a valutare il percorso di crescita che ci deve essere gara dopo gara. Questo è fondamentale ed è normale che i miei ragazzi si allenano ogni giorno per un solo obiettivo, il risultato. Loro sanno che io gli devo dare concetti ma loro si devono allenare per il risultato. Perché noi siamo, voglio una squadra che è alla ricerca sempre del risultato della vittoria, del risultato positivo. Aldo Morelli, chiedo anche questa, visto la grande amicizia con i mister Toscano e Napoli, il suo ex compagno De Rose, volevo sapere se c'è stato qualche scambio di messaggi in occasione del derby, se sì cosa vi siete detti? No, non ci siamo sentiti, quindi ci salutiamo domani in campo. Fabio Di Poito, salve mister, sarà un vero e proprio battesimo, il primo derby di fuoco alla guida del Cosenza contro una delle squadre più accreditate del campionato cadetto, che cercherà in tutti i modi di far sua la partita. Come avete preparato soprattutto mentalmente questo derby e inoltre chiede se da queste prime battute è rimasto contento nel mio arrivi e se ha pensato di cambiare qualcosa per domani a livello tattico? I ragazzi devono preparare le gare indipendentemente che sia un derby o meno. Devono prepararle nel modo giusto e poi è normale che per me ha un sapore particolare oltre per quello che ho dentro, per questi colori, ma oggi questo lo devo mettere da parte. Ho delle responsabilità importanti verso la nostra società, verso la nostra gente, verso i calciatori e quindi ho curiosità verso me stesso perché è il primo derby, il derby importante e quindi sotto il punto di vista proprio professionale mi incuriosisce il mio approccio alla gara. Però sarà tranquillo come il solito, carico e farò il possibile per trasmettere l'entusiasmo giusto a questi ragazzi perché devono giocare sempre con entusiasmo. Grazie mister e forza lupi! Forza lupi sempre!